Le PMI sono convinto sono il volano e possono essere il volano della nostra economia, ma come? Internazionalizzare una PMI, una piccola media azienda, una piccola realtà, come vi dicevi, chiaramente è la nostra sfida, ma deve essere anche l'obiettivo che molti di noi consulenti devono puntare prima ancora di ogni qualsivoglia famosa ricerca di mercato. Diciamocela chiaramente Francesco, noi abbiamo e chi per noi ha molto giocato sulla volontà da parte dell'imprenditore di attaccare un mercato estero e a noi di raccontargliela e monetizzare un'eventuale ricerca di mercato che tendenzialmente l'imprenditore in quel momento non stava richiedendo. Non ci dimentichiamo che il risvolto della medaglia dell'internazionalizzazione è vendere. Ragazzi, noi non dimentichiamo che l'obiettivo di internazionalizzare è vendere un prodotto, un capo, un prodotto food, un prodotto farmaceutico. Non devo essere io a dirvi che abbiamo superato abbondantemente le 3F, ci abbiamo aggiunto quindi al fashion, al food, al fornitore, ci abbiamo messo il farmaceutico, ci abbiamo messo la meccatronica e probabilmente anche la nanotecnologia. non ci dimentichiamo mai che siamo stati gli inventori della manopionica.